E' una lettera sul narcisismo, cari amici, una lettera sul narcisismo, perché ieri, ieri, dietro sollecitazioni, sollecitazione di un'amica, avevo pubblicato il video intitolato il narcisista, e al video e alla figura del narcisista io ho dato l'interpretazione che mi deriva dalla conoscenza, dallo studio del matriarcato, e si trattava di una interpretazione insolita. Nel video del narcisista io ho dato un'interpretazione insolita della figura del narcisista, del narciso, il narciso, il narcisista, colui che sarebbe affetto dalla patologia narcisistica, ho dato un'interpretazione insolita, che deriva dai miei studi sul matriarcato, che deriva bene, tra i vari commenti trovo un lungo commento, in pratica è un articolo, in pratica, dell'amica Anna Maria, Anna Maria, io vorrei sapere di più di Anna Maria, è una cara amica che mi segue da tanto tempo, però sa soltanto che si chiama Anna Maria e nient'altro, lei mi è accanto, mi è vicina sia qua su Youtube che su Twitter, mi è vicina, in un certo senso mi vuole bene, io voglio bene a lei, è un commento che è un articolo, io questo commento, questa lettera, questo articolo di Anna Maria ve lo riporto nel riassunto di questo video e vi invito a leggerlo, con mia sorpresa, Anna Maria si ritrova d'accordo con me, allora mi sono detto, allora non dico nulla di originale, non dico nulla di originale perché Anna Maria è d'accordo con me, è d'accordo con me, è d'accordo con me, poi mi sono consolato dicendomi che, ma no, non è che io non dico niente di originale, io dico qualcosa di originale, si vede che Anna Maria, che mi conosce da tanto tempo, ha avuto anche questo modo di approfondire le tematiche relative al matriarcato e al passaggio dal matriarcato al matriarcato, mi sono consolato in questa maniera, ho ripreso in mano la situazione, io cari amici vi invito, vi invito a leggere questa lettera, questo articolo, articolo commento di Anna Maria, poi a rivedere il mio video intitolato il narcisista e a fare le vostre considerazioni, io sono molto contento della lettera di Anna Maria, non sto qua a parlarvene perché lascio a voi il piacere di leggerla voi nella sua interezza, ecco qua, e tutto nasce da queste pubblicazioni, cari amici, vedete? Dal matriarcato al matriarcato, ok, ringrazio Anna Maria, ringrazio tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni. Grazie.